Perché mio padre aveva trovato attraverso le onde elettriche il modo di attirare l'oro da questi apparecchi che esiste nel mare e queste particelle di oro si coagulavano e lui li estraeva e mi chiamava a me per aiutarlo a dividerli. Era oro rosso, oro giallo, oro verde. Per me era una magia, mio padre era meraviglioso e quindi era anche naturale che riuscisse a avere anche questa forte intuizione di scoprire l'oro, ma purtroppo non ha completato l'invenzione, l'ha voluta distruggere dicendo che l'avrebbe poi terminata l'estate successiva a bordo sullo iota elettra e invece è morto improvvisamente di cuore e ha portato con sé anche questa invenzione. Quindi quando a me e a mia madre ci chiedevano gli scienziati, i fisici, come riusciva a farlo mio padre purtroppo noi non potevamo dare una spiegazione. È stato sempre un mistero, però io ho un ricordo vivissimo di quest'oro e dei miei urli di gioia, lo abbracciavo, lo baciavo, lui mi stringeva forte, rideva, era contento.